Una grande fuga, una partenza in salita, un finale molto duro, un qualsiasi strappo a un chilometro e mezzo, però l'importante è aver vinto già una tappa e sicuramente se siamo lì ci proviamo. Ma pensi che sia una volata oggi? Non lo so, può essere una volata, ma non di tanti corridori perché verrà fuori una corsa dura. Pensi che un'altra squadra sia a Bahrain? Pensi che altri team ti aiuteranno in Italia? Sì, è una salita davvero dura, è un chilometro e mezzo al 12% e fa male, però l'importante è stare in una buona posizione e provarci fino alla fine. Grazie mille, buca lupo.